Invoco la Divina Presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i nostri Angeli Custodi, il nostro Sé Superiore. Invoco l'intera coscienza dell'Arcangelo Michele, il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di guidarci in questo viaggio di ritorno a casa, di ritorno alla luce, di ritorno alla sorgente di amore, affinché i nostri sogni dell'anima, affinché i nostri obiettivi personali e spirituali possano essere manifestati sul piano della materia nel miglior tempo possibile, in nome dell'amore, della verità, della saggezza e dell'integrità. Ora vi chiedo di ispirare profondamente Ora l'energia del Sé Superiore, a partire dal dodicesimo chakra, discende e attraversa tutti i chakra superiori, dal dodicesimo fino ad arrivare al settimo chakra. Il settimo chakra è la porta di connessione con l'assorgente, col cosmo. Diamo il permesso a Dio, all'Arcangelo Michele, di purificare questo centro e di aprirlo alla sola luce, alla sola verità, alla saggezza e all'integrità. Inspirate ed ispirate profondamente. Benedite, benedite questo centro, date la benedizione a questo centro divino, affinché vi consenta di ricevere le informazioni e le intuizioni più giuste per il vostro massimo bene. Ora l'energia del Sé Superiore e dell'Arcangelo Michele discendono a partire, fino ad arrivare al sesto chakra. Il terzo occhio, l'occhio della visione interiore, affinché possiate avere una visione di verità, saggezza e integrità e affinché tutte le immagini di paura, tutte le immagini distorte della realtà, siano rilasciate ora e per sempre. L'Arcangelo Michele protegge questo centro, l'Arcangelo Michele purifica questo centro. Benedite questo centro di visione interiore, affinché voi possiate sempre riconoscere la verità, la saggezza e l'integrità, affinché voi possiate avere una visione del vostro futuro e riportarlo qui nel presente, affinché possiate manifestare il vostro futuro nel presente. Inspirate ed espirate profondamente. Ora, l'energia del Sé superiore dell'Arcangelo Michele discende fino al quinto chakra, il centro della gola, affinché voi possiate parlare ed esprimervi giocosamente, con gioia, con verità, saggezza e integrità, affinché questo centro sia libero, benedittelo. L'Arcangelo Michele purifica questo centro, l'Arcangelo Michele guarisce questo centro. Ora, questo campo funziona perfettamente, ora tutti gli organi correlati alla gola funzionano perfettamente. Ora, voi potete parlare, potete esprimervi liberamente. Inspirate ed espirate profondamente. Ora, l'energia del Sé superiore dell'Arcangelo Michele arrivano al centro sacro del vostro cuore, la porta di interconnessione con le dimensioni superiori della luce. Più entrate in profondità nel vostro cuore, più riuscirete a raggiungere il campo, il campo unificato, chiamato campo del punto zero, chiamato sorgente divina, chiamato amore. Potete chiamarlo come risuona meglio nel vostro cuore. È la parte più profonda e più potente di voi stessi che vi consente di manifestare la realtà dei vostri sogni. Aprite il vostro cuore, benedite questo centro e permettete all'Arcangelo Michele di guarirvi dalle ferite del passato. Rilassate tutto il vostro corpo, entrate in profondità. Abbiate fiducia che c'è l'Arcangelo Michele a proteggervi. Inspirate ed espirate. Ora l'energia del Sé superiore dell'Arcangelo Michele discende fino al terzo chakra, il plesso solare, il centro del vostro pieno potere. È importante essere connessi col potere personale. È importante sentirvi degni e meritevoli di manifestare i vostri sogni e i vostri obiettivi dell'anima. Benedite questo centro e date il permesso all'Arcangelo Michele di tagliare le corde tra voi e tutto ciò che ho posto all'amore, tra voi e tutte le persone che non sono giuste per il vostro massimo bene. Inspirate ed espirate profondamente. Tutto ciò che ho posto alla luce e all'amore viene allontanato dal vostro percorso di vita, dalla manifestazione dei vostri sogni ed obiettivi. Solo luce, gioia, amore ed elevazione nelle vostre vite. Ora, l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele discende fino al secondo chakra, il chakra della creatività, il chakra della sessualità. Le energie sessuali sono le energie più potenti nell'universo. Portate all'equilibrio questo centro. Date il permesso all'Arcangelo Michele di guarire questo centro. Benediciamo questo centro energetico. Inspiriamo ed espiriamo. Ora potete esprimere i vostri sogni e desideri attraverso idee creative, attraverso la vostra espressione creativa dell'anima. Ascoltate il vostro cuore, vi sta guidando, state entrando sempre più in profondità e l'energia divina continua a discendere fino ad arrivare al primo chakra, il chakra della base. È fondamentale radicare la vostra energia per manifestare la realtà dei vostri sogni. Inspirate ed espirate profondamente. Benedite il chakra della base. Ora voi siete nella materia, ma siete connessi col vostro sacro cuore. E ora l'energia divina discende sempre più giù, sempre più profondamente. Si creano delle radici robuste e profonde. E l'energia discende fino ad arrivare al centro della madre terra. Incontrando il cuore della madre terra, che ricambia questo amore e fa risalire l'energia della terra fino ad arrivare al sé superiore. Ed ora parte un interscambio di luce e di amore dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Ora l'arcangelo Michele crea un campo di protezione totale dentro ogni vostra singola cellula, in tutto il vostro campo energetico, in tutti i centri energetici dei chakra, in tutti i vostri organi, in tutti i livelli del vostro essere, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio, dove la vostra anima è presente. Inspirate ed espirate. Ora datevi il permesso di rilassarvi sempre più profondamente. Ogni singola parte del vostro corpo è completamente rilassata. e ora potete aprire il vostro cuore. Ma per arrivare al centro del vostro cuore c'è un portale e c'è l'arcangelo Michele che vi aspetta davanti a quella porta. L'arcangelo Michele vi porge la sua mano e vi chiede di prenderlo per mano perché c'è un viaggio interiore da fare. Visualizzate degli scalini. Sono oltre un milione di scalini. Ma se prenderete per mano l'arcangelo Michele dovrete solo fare dieci step. Solo dieci. Per chi ha preso per mano l'arcangelo Michele questo sarà un viaggio di grande potere, di grande introspezione. Più scenderete giù più entrerete nel campo quantico. Più entrerete nello spazio sacro del vostro cuore. Più sarete in grado di essere uno col Divino. Ora scendete dal decimo al nono gradino. Iniziate a respirare le dimensioni della luce. Iniziate a sentire la pace, il perdono, la compassione per rilasciare tutto il dolore e la sofferenza alle spalle. Accettate il passato come passato e fidatevi dell'arcangelo Michele. Per entrare in contatto con Dio deve esistere solo la gioia e l'amore nel vostro cuore. Inspirate ed espirate. Ora scendete nell'ottavo scalino. Dieci, nove, otto. Il passato è andato. Iniziate a sentire la gratitudine. Iniziate a vedere davanti a voi il vostro bambino interiore, la vostra bambina interiore che vi vuole prendere per mano insieme all'arcangelo Michele. Vuole prendervi per mano perché finalmente siete gioia pura, perché finalmente non avete più odio, rancore, dolore e sofferenza. La bambina e il bambino vuole giocare alla vita. Se vi sentite pronti prendetelo per mano e scendete il prossimo scalino. Sette. Ora iniziate a vedere un prato fiorito. Ci sono tanti fiori laggiù. È come un paradiso terrestre. C'è il mare, il sole, la neve è tutto uno. Ma non sentite né freddo né caldo. Sentite la temperatura giusta per voi. Iniziate a sentire gioia, allegria. Vi sentite un tutt'uno col vostro bambino e la vostra bambina interiore. E l'arcangelo Michele vi dà la forza e il coraggio di affrontare questo viaggio. Inspirate ed espirate. Ora potete scendere il sesto gradino, il quinto. siete sempre più coraggiosi. Non vedete l'ora di arrivare al centro del vostro cuore. Arrivate al terzo gradino. E ora iniziate a sentire la verità, la saggezza, l'integrità, la connessione diretta con Dio, con l'amore, con la sorgente. Ora iniziate a sentirvi divini e umani insieme. non esiste il corpo, non esiste la fisicità, non esiste la materia. Esiste solo un campo unificato di luce e di informazione. Un campo di gioia. Sentite la gioia nel cuore. L'entusiasmo. L'entusiasmo che avevate quando eravate bambini. bambini dove tutto è possibile. È possibile creare la realtà dei vostri sogni. Inspirate e rispirate profondamente. E ora il vostro bambino interiore vuole saltare tre gradini tutti insieme. Non abbiate paura. Seguite il bambino. Oppure scendete lentamente i gradini. Tre, due, uno, zero. Ora, giratevi. Non esistono più scalini. Non ci sono più le scale per ritornare indietro. Non si può più tornare indietro. Ora siete uno con Dio. Sentite l'amore, la gioia, la pace, la spensieratezza. Sentite la creatività. Ora avete il potere di creare la realtà che voi volete. Ora potete creare la vita dei vostri sogni. Perché siete bambini, siete adulti, c'è l'Arcangelo Michele. Siete in un campo di infinite possibilità dove tutto è possibile. Tutto si manifesta alla velocità della luce. Ora vi chiedo con amore di ispirare ed espirare. e di immaginare la realtà che volete manifestare. I vostri desideri del cuore ma anche i vostri desideri materiali e spirituali. cosa vuoi veramente, anima infinita? Vuoi delle nuove relazioni? Vuoi un compagno o una compagna che ti ama? Vuoi una casa? Vuoi viaggiare? Vuoi che la tua attività arrivi al successo? chiedi quello che vuoi. Inizia a disegnare il tuo quadro con le ditta. Inizia a disegnare come con una bacchetta magica. Inizia a visualizzare la realtà che vuoi manifestare. E ora in questo campo unificato tutto quello che immagini lo vedi manifestarsi all'istante è magia pura. Benedici questo momento sacro. continua a disegnare la realtà che vuoi creare. C'è l'Arcangelo Michele accanto a te ti sta proteggendo. Tutto è amore. Tutto è possibile in nome dell'amore. continua a creare ed ora ti chiedo di provare pace gratitudine gioia entusiasmo puro. immagina come che nella materia tutto questo è già manifestato. Senti la gioia nel tuo cuore la gratitudine e l'entusiasmo puro. Continua a sentire la gioia e dentro di te ripeti con me grazie sorridi grazie è già manifestato grazie 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 continuo a sentire gratitudine per quello che è manifestato ed ora lascia andare i tuoi sogni lasciali andare lascia tutto nelle mani di una potenza superiore che sa cosa deve fare lascia lascia tutto nelle mani del tuo sé divino superiore e futuro sei tu sei tu nel futuro fidati di te fidati di Dio e dell'amore ora ora inspira ed espira gioca un po' in questo prato fiorito con la tua bambina o il tuo bambino interiore parla con l'arcangelo Michele ponigli una domanda cosa vuoi sapere dall'arcangelo Michele chiedilo e lui ti risponderà ora l'arcangelo Michele ti abbraccia senti quell'abbraccio quel calore senti quella protezione quell'amore incondizionato ora puoi tornare alla tua vita ma prima devi risalire gli scalini appaiono di nuovo davanti a te prendi per mano l'arcangelo Michele il tuo bambino interiore e risali gli scalini 1 2 3 4 5 6 7 non preoccuparti puoi tornare in questo spazio sacro tutte le volte che vuoi lascialo andare e ritorna al presente fino ad arrivare al decimo scalino si riapre il portale e ora tu ritorni dentro il tuo corpo inizi a sentire di nuovo le mani i piedi il contatto con la terra sei dentro di te hai toccato il paradiso hai toccato il campo unificato hai toccato il divino dentro di te e puoi ritornare in questo spazio tutte le volte che tu vuoi inspira ed espira profondamente appena siete pronti potete ritornare nel presente e aprire gli occhi pensano che tu ti mi ti pi il pi 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 Grazie.